Non ci saranno Calderoni, Bonin, Pinto e Bonino nell'undici iniziale che questa sera Ciro Danucci opporrà al Messina e non saranno neppure in panchina. E sì perché i giocatori, come comunicato nel tardo pomeriggio di venerdì dalla società, non sono a disposizione del tecnico Biancazzurro perché stoppati da noie muscolari. E poiché la gara con i siciliani per il Brindisi è da dentro o fuori, Danucci proverà a far emergere il meglio degli uomini a sua disposizione provando a vissare la prestazione messa in campo con la Casertana, ma questa volta con i tre punti nel finale. Quindi le scelte, per certi versi obbligate, dell'allenatore del Brindisi potrebbero essere le seguenti. Volendo riproporre il 3-4-3, Danucci potrà contare sulla difesa dei pali affidata a Saio, protagonista in positivo nelle ultime uscite. In difesa Gorzeleschi, Merletti e Bellucci. A centrocampo invece dovrebbero agire Valenti, Petrucci, Bagatti e Falbo, ma in questa posizione ci sarebbe anche Monti. Il tridente offensivo invece dovrebbe essere affidato a Opola, Guida e Trotta. Tre punti per continuare a sperare, almeno in una permanenza attraverso i play-out. E questo l'imperativo categorico del Brindisi che scenderà in campo questa sera alle 18.30.